Pozzilli e il Molise Tutto ha vissuto la notte dei ricercatori 2016. Oltre 2.000 persone, tra studenti, cittadini e curiosi, sono entrati in quelli che per una serata sono stati laboratori veramente aperti, grazie all'impegno dell'IRX Neuromed e della sua fondazione. In un'atmosfera rilassata e informale, sottolineata anche da sottofondo musicale, si è rinnovato l'impegno di chi fa scienza verso i cittadini. Un evento che ha il valore della sfida europea, perché nelle stesse ore centinaia di centri di ricerca in tutto il continente hanno fatto lo stesso. Un incontro tra ricercatori e cittadini che ha celebrato l'indissolubile legame tra scienza e società. L'apertura della terza edizione della notte dei ricercatori dell'IRX Neuromed è stata preceduta da un momento di alto valore scientifico, il meeting La Rete degli IRX delle Neuroscienze e della Riabilitazione, una piattaforma per l'Europa. I rappresentanti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico impegnati nelle scienze neurologiche si sono incontrati nel centro di ricerche molisane per disegnare una rete italiana capace di pianificare le strategie con le quali il nostro Paese potrà partecipare al grande sforzo mondiale attualmente in atto nel settore delle neuroscienze. Alla presenza delle autorità civili, militari e dei ricercatori hanno preso parte all'incontro moderato da Anna Larosa, giornalista e divulgatrice scientifica, Luigi Frati, direttore scientifico di Neuromed, Carlo Cartagirone, direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia, Giselda Scalera della Direzione Generale Ricerca e Innovazione in Sanità del Ministero della Salute. Collegati in videoconferenza poi Giuseppe Nappi, già direttore scientifico dell'Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia, Claudia Gandini ed Egidio D'Angelo dell'Istituto Mondino di Pavia. Dal confronto con i giovani ricercatori il simposio ha rappresentato l'occasione per mettere a confronto le esperienze e puntare ad una rete che, unendo gli IRCS di quello che rappresenta uno dei campi della biomedicina più denso di promesse, potrà dare un contributo fondamentale al ruolo che il nostro Paese giocherà nei prossimi anni sullo scenario internazionale. Il Ministero della Salute ha detto nel suo intervento introduttivo, Giselda Scalera, crede fortissimamente nella ricerca e fare rete significa ottimizzare al massimo le risorse per creare condizioni ottimali per il sistema Paese. Quello degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ha poi aggiunto Carlo Cartagirone, direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma, è un modello molto forte, non è solo una ricerca che raggiunga nel più breve tempo possibile il paziente, è dagli stessi pazienti che vengono acquisiti forti, che spingono i ricercatori verso strade innovative. Bisogna tener presente, e la dico in poche parole, che gli IRCS sono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono un'organizzazione, diciamo di vecchia data, perché il primo istituto di questo genere nasce addirittura nel 1938, che ha una peculiarità straordinaria, cioè quello di combinare insieme il principio dell'assistenza e della ricerca collegata con i pazienti di cui ci si occupa, che è il principio della ricerca traslazionale che oramai si è andato affermando nell'ultimo decennio come uno degli approcci più produttivi e più interessanti che c'è in campo scientifico, soprattutto in campo neuroscientifico. La rete degli istituti di neuroscienze costituita dagli IRCS, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ha proprio l'obiettivo di mettere a fattor comune molte strumentazioni, molti ricercatori e anche molte idee naturalmente, per poter partecipare a quelli che sono i grandi programmi europei che si stanno sviluppando oramai da molti anni, ma sempre più con la presenza italiana a livello europeo. Questi studi hanno come obiettivo quello di risolvere problemi grossi per i nostri pazienti, che sono quelli della natura e delle cause delle malattie neurodegenerative, per esempio, e fra queste conviene citare le malattie neurodegenerative più note anche al grande pubblico, la malattia d'Alzheimer, la malattia di Parkinson, la SLA e molte altre, comprese le malattie che colpiscono l'infanzia, dalle amiotrofie spinali alle distrofie muscolari, che sono malattie non solo invalidanti, ma che sono malattie che hanno come necessità quello di raggiungere grandi dati e grandi numeri di informazioni per poter mettere insieme delle conoscenze accettabili, perché sono probabilmente delle malattie in cui c'è una combinazione di fattori ambientali e fattori genetici di difficile comprensione immediata nel singolo individuo. Quindi grandi campioni permettono di dare grandi informazioni e soprattutto grandi risultati per quello che è l'avanzamento reale della scienza. Un dialogo, quello tra gli IRCS Neuromed e delle neuroscienze, che dopo l'importante momento di Pozzilli continuerà verso obiettivi e progetti comuni. E il convegno ha anche visto il saluto di Beatrice Lorenzin, ministro della salute, che in un videomessaggio ha sottolineato l'importanza dell'incontro tra ricercatori e cittadini. Questa notte dei ricercatori, ha detto il ministro, ci permette di far capire a tutti dove sta andando la scienza e verso quali straordinari traguardi ci sta portando. È una meravigliosa rivoluzione, ma noi dobbiamo mediare, spiegare e raccontare. Riteniamo che comunicare la ricerca significhi anche vedere il ricercatore al suo posto di lavoro. Abbiamo lavorato negli anni passati cercando di comunicare la ricerca in generale. Quest'anno ci tenevamo invece a comunicare la ricerca nelle neuroscienze, quindi a meglio comunicare anche le attività che svolge Neuromed in quanto istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Anche in una forma non personalizzata, perché abbiamo organizzato un simposio in rete con gli altri IRCS delle neuroscienze in Italia, perché li vediamo fortemente nelle reti. Sarà questo il futuro della ricerca italiana? Una rete, un consorzio di IRCS anche per partecipare a dei bandi europei che permettono poi anche il finanziamento di numerosi progetti? Noi teniamo fortemente i contenuti piuttosto che i contenitori. Quindi le reti possono essere assolutamente operative anche senza essere formalizzate. Il network, anche i rapporti informali tra ricercatori di diversi istituti hanno delle potenzialità straordinarie in un contesto europeo e internazionale che è quello con il quale ci confrontiamo. Attualmente se vogliamo vincere la sfida in particolare con i paesi del Far East credo che fortemente dobbiamo lavorare immaginando che anche il Ministero ci supporti in questa azione. Cosa che sta facendo? La dottoressa Scalera che oggi era qui dirigente del Ministero e responsabile della promozione delle reti ce l'ha confermato. Dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo fare squadra perché è questo che ci può contraddistinguere per poter valorizzare ulteriormente le brillanti attività di ricerca che quotidianamente i nostri ricercatori svolgono. Al termine del meeting la vera e propria festa della scienza rappresentata dalla notte dei ricercatori. Le porte dei laboratori Neuromed si sono aperte per un confronto tra cittadini e ricercatori, per capire meglio, porre domande e confrontarsi sui progressi, le difficoltà e il fascino del mestiere della scienza. I visitatori hanno avuto la possibilità di conoscere i risultati scientifici ottenuti dal Neuromed, visitare i laboratori e parlare in modo semplice ed informale con tutti i ricercatori. Ma hanno incontrato anche i telescopi dell'Associazione Astrofili Frentani che ha offerto osservazioni del cielo e le tecnologie più avanzate come quelle che permettono l'interfacciamento tra cervello e computer. Senza dimenticare quel rapporto particolare che può esistere tra arte e scienza. Rapporto disegnato da Bautas, una originale installazione interattiva dedicata all'interconnessione e alla comunicazione. All'insegna della prevenzione, infine, i ricercatori hanno guidato il pubblico nella degustazione di piatti della dieta mediterranea, quale messaggio universale di un salutare stile di vita. La sfida di Neuromed con gli altri IRCS, con l'apporto del Ministero della Salute e con l'apporto importante della Regione Molise è quella di essere competitivi in ambito internazionale. Ci stiamo riuscendo, giusto in questo mese è stato pubblicato un nostro articolo su una rivista che si chiama Nature, che è la rivista più importante al mondo, per capire quella nella quale quando è stata scoperta la natura del DNA è stato pubblicato su Nature. Ecco, riuscire dal Molise, da una struttura a pubblicare su Nature il motivo di orgoglio e deve essere di orgoglio per tutto il Molise, non solo per Neuromed. Lo ha detto benissimo il Presidente di Laura Frattura dicendo che dobbiamo capire che Neuromed è un orgoglio di tutti i molisani. Fra l'altro noi abbiamo anche il progetto Moli Sani, che voi sapete è un progetto di controllo delle malattie cardiovascolari, di correlazione fra una sana alimentazione e una sana vita e anche su questo siamo leader internazionali. Quest'anno è una terza edizione, ci vediamo l'anno prossimo alla quarta perché saremo sempre qui, sempre più agguerriti e sempre più importanti, sempre più competitivi con la nostra ricerca e con la nostra umanità verso i malati. Ricordiamo che noi abbiamo l'80% di malati da fuori regione, è un marchio di grande qualità di cui siamo orgogliosi per qualità della clinica e per qualità dell'umanità che ci contraddistingue. La regione c'è non perché sostiene qualcosa ma la regione c'è con orgoglio in una situazione di eccellenza per la nostra regione. Una situazione di eccellenza espressa da chi si rivolge da paziente a questa struttura e una struttura di eccellenza da chi continua a investire sulla propria vita facendo ricerca presso la fondazione. Io so che ricevo settimanalmente segnalazioni dai miei colleghi delle altre regioni che mi chiedono la velocizzazione su ipotesi di ricovero presso Neuromed. Questo per la regione Molise significa mobilità attiva, questo per la regione Molise significa attrattività. Non credo che significhi parlare di contrapposizione tra organizzazione pubblica e organizzazione privata. La sanità sulla quale investe direttamente la regione è sicuramente la sanità pubblica ma nello stesso tempo ritengo che sia giusto che la regione sia orgogliosa di eccellenze che portano alto il nome del Molise. La serata e la notte di ieri ha rappresentato il culmine di una manifestazione che ha già dedicato due giornate specificamente ai giovani. Mercoledì e giovedì oltre 1500 studenti delle scuole superiori del territorio che tocca Molise, Abruzzo, Lazio e Campania hanno invaso il Neuromed non solo per incontrare ricercatori e dialogare con loro ma anche per prendere parte ad esperimenti interattivi, un quadro completo di quello che è il mestiere della scienza, una possibile prospettiva per il loro futuro. Gli ingredienti sono sempre gli stessi, passione soprattutto da parte di tutti gli attori, tutti i protagonisti di questa serata, grande entusiasmo ma questa volta si è arricchita anche dell'esperienza che noi abbiamo fatto quotidianamente a contatto col mondo reale, ovvero sempre tra la gente con iniziative, notevoli iniziative, divulgative, di sostegno per diffondere anche questa percezione della ricerca importante soprattutto per poi essere trasferita nella pratica, ovvero nelle soluzioni che poi devono servire per migliorare la qualità di vita della gente. Cosa ti è piaciuto di più rispetto al giro che hai fatto qui oggi? Beh, ad esempio vedere come vengono studiati i tumori in quanto vengono prese tracce di DNA del tumore stesso e analizzato appunto attraverso apposite apparecchiature, è stato interessante in quanto la ricerca scientifica stia avanzando in questo campo. E vabbè è stato tutto molto interessante, in particolare in modo la parte riguardante le malattie neurologiche. Ci hanno fatto vedere un sacco di laboratori in cui fanno degli esperimenti e anche alcune tecniche diciamo tecnologiche, alcuni esperimenti sulla robotica, degli arti che magari mancano ad alcune persone e è stato molto interessante perché comunque abbiamo capito come fanno a studiare alcuni tipi di malattie, anche dei tumori o anche appunto come una persona che ha perso la sensibilità in un arto riesce a muoverlo poi. Che cosa ti è piaciuto a te in particolare? Penso proprio la robotica e gli arti robotici, questi esperimenti che stanno facendo, è molto interessante. Professoressa Elisabetta Buttaro del liceo scientifico di Cassino, allora l'istruzione è anche questa, consorziarsi con un ente di ricerca e far vedere anche a questi ragazzi che cosa avviene in un laboratorio. Certo, è interessantissimo perché noi nella nostra scuola purtroppo non abbiamo la possibilità di sperimentare, quindi il nostro insegnamento è soprattutto a livello teorico, per cui queste esperienze sono bellissime, anche perché in questo modo i ragazzi possono toccare con mano quanto sia importante la scienza, quali risvolti possa avere poi la scienza sulla nostra vita quotidiana.